Civil Week 2024 al Parco Sempione, Cascina Nascosta, con Paolo Iabichino. Ciao Fabio, ciao a tutti. Ma hai visto questa bancarella? Adesso chi ci seguirà te lo non la può vedere, chi ci vede in video invece sì. Ma non è una bancarella, non è che siamo al mercato qui, è qualcosa di importante. L'anno scorso, è un nome già conosciuto, guarda, perché io te lo leggo, Associazione Nistagmo Italia, ti dici qualcosa? Sì, assolutamente sì, andiamo a conoscerli perché l'anno scorso... Andiamo a ritrovarli? Per l'altro la ritroviamo, perché anche l'anno scorso era sempre lei. Sempre qui Elena, buongiorno Elena Nistagmo Italia, Paolo mettiti a favore di camera. Allora Elena, Nistagmo Italia, che cosa? Qui ci sono delle bolle che partono, no non si spegne più, benissimo, ok? Che cos'è Nistagmo Italia? Ricordiamolo per i pochi che, ormai è una tradizione quella per noi di vedere... Sì, è il terzo anno, terzo anno della Civil Week, sì sì. Noi siamo un'associazione di pazienti, nate da, siamo tutte mamme, di bambini affetti da Nistagmo, che è un problema, una malattia rara che dà un movimento involontario agli occhi ed ha purtroppo ipovisione e altre problematiche. Quindi soci tutti volenterosi, tutte famiglie, ma in realtà abbiamo delle grandi novità rispetto all'anno scorso, Fabio. Che novità? Perché abbiamo iniziato, grazie a Irene, che è la responsabile della ricerca scientifica. Ciao, buongiorno. Ciao Irene, buongiorno a te. Abbiamo iniziato, siamo riusciti finalmente ad ottenere il parere favorevole dal nostro comitato etico e quindi iniziamo un progetto scientifico che coinvolge appunto diversi centri ospedalieri italiani per caratterizzare il Nistagmo idiopatico congenito. Idiopatico vuol dire per il quale non conosciamo quale sia la causa, congenito vuol dire presente alla nascita. Questo progetto è un progetto molto ambizioso e molto importante perché prevede un'indagine appunto non solo un'indagine clinica sul paziente, sui piccoli pazienti affatti in Nistagmo ma anche una vera e propria indagine genetica e quindi ci permette di caratterizzare, speriamo, di identificare altre nuove mutazioni che possono essere la base dell'Nistagmo. E per noi è un grosso... È un grande passo in avanti perché insomma c'era l'informazione, c'era il far conoscere questa disabilità, questa malattia e adesso c'è invece la ricerca alla base di tutto. La ricerca, abbiamo coinvolto i più grandi ospedali pediatrici italiani, abbiamo veramente un comitato tecnico scientifico d'eccellenza perciò ci sono i pazienti, con le mamme anche, le famiglie ci sono dietro i medici e in più siamo riusciti ad arrivare nelle scuole, perciò siamo partiti con i progetti di sensibilizzazione proprio nelle scuole. In più, ultima cosa, che è ongoing, l'anno prossimo ve lo diremo meglio, stiamo iniziando anche un progetto per fare su una piattaforma per i medici, proprio un progetto per spiegare a tutti i medici a 360 che cos'è l'Nistagmo e come bisogna affrontarlo perché l'Nistagmo è un problema, cioè l'ipovisione è un problema che va affrontata con tanti specialisti, non con l'oculista diciamo semplicemente, quindi c'è la parte neuropsica. Insomma, come vedete ci sono anche persone serie. Poi arriviamo io e Paolo, ogni anno invece troviamo questa esperienza perché voi ci fate provare delle esperienze, perché per capire appunto cosa vuol dire essere ipovedenti lo si può diventare, in un certo senso grazie a voi che appunto ci fate capire le sensazioni e come funziona e mi ricordo, ti ricordo quella delle monete? Io mi ricordo delle figuracce, infatti. Soprattutto poi ci siamo divertiti, perché poi la cosa che io dico sempre, tu entri qua che ti diverti con un matto, poi esci che però c'hai una roba qua che, perché giustamente c'è la consapevolezza. Però sono anche fortunato, anche da questo punto di vista. Però è il senso della Civil Week, nel senso che più di un appuntamento sono realizzati e disegnati proprio per permettere alle persone, chiamiamole normodotate, di toccare con mano le disabilità delle persone meno fortunate. Questa cosa devo dire che viene fatta in maniera leggera, ma con una grande attenzione per rendere sempre più persone consapevoli delle... Sì, c'è molto spessore dietro, secondo me. Cioè la leggerezza è corretta perché ti aiuta a veramente affrontare il problema, però dietro ti porti quel senso di... In questo caso parliamo di sensi proprio. Ecco, allora, che cosa... Vedi, 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 Marilena, vediamola un po'. E Leonora che conosciamo, perché Leonora, sì, sì, me la ricordo, Leonora. Buongiorno, Leonora. Allora, che cosa hai preparato quest'anno? Allora, quest'anno sempre sul sensoriale, perciò quest'anno abbiamo fatto, sempre con i nostri occhiali modificati. Vediamo gli occhiali modificati che sta mettendo... Degli occhiali con su dello scotch, che però non copre tutto, tu vedi qualcosa da... Io vedo qualcosa, ma vedo come vedono i bambini, i povedenti. C'è uno di tantissimi tipi. Infatti i nostri occhiali sono tutti diversi, perché c'è il bambino che vede di più, il bambino che vede di meno, il bambino che vede nella periferica, nella centrale. Ma adesso vi spiego perché ci sono un sacco di novità quest'anno. Allora, guarda, questo... È un altro tipo di occhiale. In questo momento sto vedendo molto meno rispetto a prima. Fabio lo vedo bello. Quello che lo credo i miracoli. Questo se vuoi provare a fare un mandala, utilizzando sempre gli occhiali modificati, provando a utilizzare le tempere, la colla e i piccoli materiali di reciclo, è questo proprio far capire un po' la difficoltà che hanno i bambini i povedenti a scuola. Perché loro è vero che vedono, però guarda che anche nei movimenti come sono molto più rallentati, perché, insomma, è la difficoltà nel provare il contorno, il colore, tanto materiale, tutto mischiato. Per loro non è semplice selezionarlo e vederlo come lo vediamo noi, perché non è così nitido. Sicuramente la difficoltà si vede anche nella lentezza dei movimenti. Faccio un disastro, infatti. Povero Paolo. Perciò è bello far capire anche i compagni e agli altri bambini che comunque è vero che sono capaci di fare tutto, però con tante difficoltà. con le loro modalità e i loro tempi. Paolo ci spostiamo. Hanno i loro tempi che è in questo momento. Anche Paolo, appunto, è. Allora. Io vedo due che stanno, aspetta, ma mi stanno... Giocando. Vedo... Hai visto? Due signori qua che stanno giocando a forza 4. Loro hanno gli occhiali modificati sempre e abbiamo provato a far giocare i bambini che verranno a trovarci oggi con esempio di giochi che hanno anche a casa, però con la difficoltà dei nostri occhiali. Per far capire anche loro che quando giocano con i loro compagni comunque le difficoltà loro le hanno, anche se apparentemente non sembra. Ha avuto anche di più l'autore che mi riconosce i colori. Sì, no, esatti. Non so se è un altro disturbo o cosa. Non lo so, però... Anche il fatto di dover inserire questo in una fessura comunque molto stretta per loro non è così scontato e così facile. Poi quest'anno ci sono le novità di due pannelli. Allora, questo, se volete un po' avvicinarti... Avvicinati anche tu, ma in un po' avvicinati con le telecamere... Va bene? Allora, proprio per vedere un po' da lontano. Questo simulano un po' le persone che hanno una vista solo periferica, ma non centrale, perché il centrale è un po' fuscata e coperta. Quindi io mi avvicino in questo... Però provo, eh? Dai. No, aspetta, sposta di Marilena, proviamo... Però parlo, dimmi Paolo che cosa... Allora, a questo momento mi avvicino il più possibile. Niente, vedo solamente all'esterno. Esatto, vedo i capelli, la tua maglietta e lo spazio esterno fuori. No, la tua faccia non la vedo. La periferica e non la centrale. Invece così, cambiando il pannello, è il contrario. Trapperti, si posso fare? Ma chi è che si inventa queste... Io. Allora, in questi ultimi anni ho fatto diversi corsi sulla disabilità visiva e dopo ho rielaborato un po' questi pannelli dopo tutte le conoscenze che ho acquisito. In questo caso io vedrò solo la tua faccia. Ah, è solo... Sì, perché è solo il centrale e non la periferica. È vero. Esatto. In questo caso, spesso della cataratta anche, quando tu attraversi la strada banalmente, tu hai solo una visione tubolare, ma tutto il 180 gradi comunque... Pericolosissimo. 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 Non c'è. Senti, e questo... Ah sì, qui c'è un altro laboratorio. E questo invece, guarda, un altro pannello, sempre che è di invenzione, che provi a venire da questa parte. Se ti avvicini e guardi in oltananza, vedi sempre molto sfocato. È un po', simulano un po' come vedono loro da lontano. Paolo? Se vuoi provare. Cavolo. È, sì, è impressionante. Capisco un po' come la difficoltà è che non vedono. Non è che non vedono, però vedono molto male. Poco è male, purtroppo. E questi sono un po' per far capire, di sensibilizzare. Ti prende l'idea? Qui, scusate se vi interrompono, qui vedo invece altri laboratori. Vedo un tunnel, in cui non ti chiedo parlo di entrare, perché l'hanno fatto piccolo quest'anno. Se non l'hanno fatto piccolo. Però io mi ricordo che io e te siamo entrati in un tunnel, in quel di Cornaredo, sempre per colpa loro. È vero. Era più o meno vero le dimensioni della TAV, però sì. Siamo entrati. In questo tunnel facciamo entrare dentro i bambini. È un tunnel dove comunque la luce è offuscata, non c'è, e devono entrare dentro a riconoscere dei materiali che noi abbiamo inserito. Però c'è comunque al buio, anche solo per cercare di sviluppare altri sensi, non solo la vista. Cioè se io entro dentro a un luogo comunque buio, dove vedo poco, devo attivarmi con altri sensi. Perciò spesso mettiamo anche delle materiali un po' ingannevoli. E questo circuito qua che cosa figura? Questo invece è un percorso un po' più sensoriale, ma dinamico. Per fare... Adesso la mia collega Fè, che lo spiega sicuramente nel dettaglio, però abbiamo messo... Ah, però, qui con gli occhiali... Sempre con gli occhiali modificati. Paolo, occhiali modificati, Paolo. Sì. Paolo, occhiali modificati, bravo. Occhiali. Ok. Allora, credo che tu qua debba provare a stare... No, devi messo il piede... Non metti il piede sopra, perché gli sporchi. No, no, giusto. No, credo che sia un piede dritto, un piede storto, come nel... E devi mantenere l'equilibrio tipo surfista. Questo si riesce ancora... Però, credo che lì inizi il problema. Già, avanti, ci sono le difficoltà. Qui cosa dobbiamo fare? Ragazze... Che arriva... No, aiuto l'Elisabetta, che è lei. Ciao, Elisabetta. Qui che cosa dobbiamo cercare di fare? Allora, qui dovete cercare di... Colpire i cerchi, di fare cento. Di fare cento con questa chettina in mano. Vediamo se ce la fai Paolo. No. Eh, però, bravo. Non è facile, ragazzi. Cioè, sto andando veramente... A tentativo, così. Veramente a caso. Niente. È veramente complicato, sì. È veramente difficile. Eh, dai, dai, dai. Sì, però... L'altezza aiuta. Il fatto che io sia più alto rispetto a un bambino iprovedente, evidentemente mi dà... Ti aiuta un po'. Una facilità che loro non hanno. Mettici anche che io gioco a biliardo. Ecco. E quindi ho più... Niente, questo no. Comunque, sì. Molto complicato. Occhio. Sono i piedini rossi. Perfetto. Ci sono dei cerchi che credo tu debba lanciare. Ok. Il grillo. Devo centrare il grillo dello stesso colore. Da sotto di giallo, se no. No, qui è veramente... No, qui è veramente... È difficile, eh? I ragazzi in questo modo fanno esperienza. Niente, non è... Sto leggendo il lavoro di una giornata intera della situazione di Nistagmo. Non ci invitano più, Paolo. È assolutamente possibile. Non ci invitano più. Il grillo successivo termina il percorso. Ci sono i piedini veri. Sì. Dicono che abbiamo terminato. Ok. E si può partire poi... Sì, sì. Margherita. Margherita. Io non posso... Io non posso fare la Civil Week. Noi non possiamo fare la Civil Week senza Margherita. Margherita, eccoci qua. Ciao. Sempre più grande, Margherita. E tu me. Margherita, quanti anni hai adesso? Eh, nove e mezzo. Siete, abbiamo conosciuto che avevi sei, praticamente. Eh, non male. Comunque, allora, stiamo chiudendo appunto questo collegamento qui dalla vostra bellissima realtà. Ricordaci bene che cosa fa l'Associazione Nistagmo. Che tu non so che la sai dire bene. Cerca di aiutare i bambini. Quindi fa tanti lavoretti per far capire come c'è, come vediamo, come vedono alcuni bambini. Tu Margherita, come me lo descriveresti? Come vedi tu? Come se ti devo chiedere di scrivermi come vedi, come me lo descriveresti? Io vedo molto bene, ma ci sono altri bambini che vanno molto più aiutati. Di me, che hanno qualcosa un po' più, cioè, gravi, non so come dire. Ok. Però state facendo un gran lavoro, eh? Vero? Sì. Ed è bello lavorare per questo, per portare appunto aiuto a questi bambini? Sì, moltissimo. Da soddisfazione. Bene, allora oggi farai tutti i vari laboratori insieme agli altri bambini che vengono? Sì. E poi ci racconterà allora com'è, vai. Abbiamo un'intervenzione ancora. Prego, dimmi, dimmi, ecco qua. Abbiamo il piacere di essere qui con... Penelope. Penelope, ciao Penelope. Ciao. Visto che domani è la festa della mamma, stiamo anche facendo dei lavoretti per questa festa appunto. Quindi ci sono dei bellissimi bigliettini. Ti voglio bene mamma? E il caso di venire a Cascina Nascosta, sono qui tutt'oggi per la Civil Week e crediamo che possiate dare un gran contributo a questa associazione che sta facendo un grandissimo lavoro con i bambini povenelli. Noi sicuro ci ritorniamo qua al passato. Noi o mai sapete che tra tutti gli anni siamo qua. Siete come la dichiarazione dei redditi per noi. Molto mi piacevole, posso dire. Molto mi piacevole. Nonostante sia povero, molto mi piacevole. Va bene. Grazie. Enna, vieni qua che salutiamo insieme. Grazie Enna. Grazie. Grazie a tutta l'associazione Nistagmo. Venite. Il 5 per 1000, devi ricordare. Ragazzi, 5 per 1000. 5 per 1000 è la nostra fonte. Noi siamo tutti genitori, quindi siamo... Ricordiamo il sito? Sito www.nistagmoitalia.com. Perfetto. Anche i social, Instagram e Facebook. Peraltro il 5 per 1000, se non lo segnalate al commercialista, sono soldi che non vanno... Non è che li spendete in più, sono soldi che restano lì a disposizione dell'erario. Mi farebbero delle battute che non posso fare. Tanto vale prenderli e destinarli a un'associazione di quelle che sta facendo un lavoro. Non costa niente a voi e costa invece tanto in bene a chi lo riceve. Ne so che davvero... Ma che belli. Anche i portarelli che è bello. Portarelli che è bello. Portarelli che è bello. Portarelli che è bello. Sono iscritto per la mamma, sono per la festa della mamma. Sempre per la festa della mamma. Allora, auguri a tutte le mamme, anche. E noi ci rivediamo qua sicuramente il prossimo anno, ma la Civil Week 2024 continua e noi ci spostiamo. Avanti. Ciao.